Sì, parlerei della partita precedente perché se analizziamo le tre partite la migliore delle tre è quella che abbiamo fatto a Verona, perché Verona l'abbia fatto benissimo per me, però devo parlare di Salerno, a Salerno l'abbiamo approcciato male o perlomeno loro l'hanno approcciato molto bene, lo stadio ci ha messo tanto nella partita, anche lo stadio, non era semplice ma sicuramente noi non abbiamo fatto il meglio che stavamo facendo fino alla partita precedente, io ho detto che è stato un giro a vuoto per quello che stiamo facendo negli ultimi tre mesi, ora stanno a confermarlo perché altrimenti ricadremo nello stesso errore nel quale siamo caduti lo scorso anno, il girone d'andata e questo sarebbe veramente un peccato perché abbiamo fatto tanta fatica per aggrapparci a un treno che è quello della metà classifica, della zona insomma dove di solito siamo stati anche lo scorso anno e le stagioni precedenti e abbiamo fatto tanta fatica per farlo e ora vogliamo rimanerci, sarebbe un peccato non lottare per migliorare questa posizione perché è il blocco di squadre con tante squadre in pochi punti, molto ravvicinate, è il blocco di squadre più vicino se si guarda la classifica e quindi vuol dire tanto per noi, partita di domenica, di sabato mi ha dato fastidio per questo, sicuramente è un momento dove devi attingere da tutto, devi provare a trovare motivazioni dove magari altri non devono attingere perché per altri basta guardare la classifica, chi è un po' più sotto all'ambizione di salvarsi, chi è sopra all'ambizione di magari guadagnare un posto nelle competizioni europee, noi siamo in quella zona di mezzo ma ora siamo tredicesimi, la settimana prima eravamo decimi, fa differenza, poi agli occhi esterni fa poca differenza, ai nostri occhi, alla nostra volontà fa tanta differenza sapendo che percorso abbiamo fatto, sapendo che a fine giornata eravamo diciassettesimi e siamo lì, siamo tutte lì, ce la giochiamo in queste sette partite la posizione e quello che faremo quest'anno tutti, a prescindere da Sassuolo, dal futuro di ognuno di loro, se lo ritroveranno nel futuro, sì è un sistema di gioco che può metterti in difficoltà su palla persa, un sistema di gioco molto verticale e per le caratteristiche dei giocatori che hanno, le loro occasioni le creano in tutte le partite, anche in partite magari dove non sono stati strepitose a livello di gioco, quindi è una squadra che ci metterà in difficoltà, però è una squadra che dobbiamo affrontare convinti, che dobbiamo riscattare la partita precedente, sicuramente non sarà una partita facile, ma non sono mai partite facili. Ora le motivazioni fanno tanta differenza, poi dopo non bastano le motivazioni per far partita, devi essere lucido, devi avere coraggio, devi avere le qualità, noi le qualità le abbiamo, coraggio, mediamente ce l'abbiamo, l'ambizione di voler migliorare la nostra classifica, dobbiamo averlo, ma lo abbiamo, il nostro campionato non è finito e siamo motivati nel voler migliorare questa classifica, nel voler far bene fino alla fine e quindi la speranza è che lo si riesca a trasferire in campo quello che poi veramente si cerca di approfondire sempre in settimana. Diciamo che ora io penso alla partita di domani, però dopo la partita di domani sicuramente qualcuno avrà bisogno di recuperare di più, qualcuno per scelte non giocherà domani, potrebbe giocare mercoledì, qualcuno nella mia testa potrebbe giocare mercoledì e magari non giocherà domani, sicuramente alcuni ragazzi che nelle ultime partite hanno trovato meno continuità o poca o pochissima continuità nel campo, potrebbe darsi, come dicevi tu, che trovino uno spazio, anzi, me lo auguro e la speranza è quella, ecco, e che soprattutto la squadra li aiuti a far bene perché un singolo non può determinare. Abbastanza bene, si è allenato con la squadra, si allenerà oggi con la squadra e poi valuteremo per la partita di domani, mi sento di dire che sarà convocata a disposizione, poi ora vediamo, ecco. Ma non ti nascondo che mi leggo alle persone, quindi le persone che frequenti tutti i giorni e vedi di più sono i magazzinieri, le persone magari che stanno un pochino all'ombra, quindi mi farà piacere rivedere tutti i ragazzi in campo perché ce ne sono un po' che ho allenato, sempre meno, ce ne erano di più l'anno scorso, ma ce ne sono un po' in campo e sarò contento di vederli e poi i magazzinieri, i dirigenti, alla fine col tempo credo che si siano messe a posto anche un po' le cose perché nel senso sono andato via con un po' di polemiche ma realmente io devo tanto all'Empoli però credo anche di aver dato. Ma direi che quando ci saranno novità lo saprete, ecco, perché se no capisco, se ne continuo a parlare ma non c'è un caso, non ci sono polemiche onestamente, se quando ci saranno novità sicuramente sarete informati.